e al momento sto a Berlino, però d'origine sono astriaca, sono nata a Salesburgo e sono anche cresciuta in Italia, un po' a Pesaro, perciò parlo italiano e beh, l'Italia amo molto, amo la vita lì, amo la gente, amo la gioia amo un po' la dolce vita, è un po' diversa, l'Italia è un po' diversa mi sembra e beh, di professione sono attrice, ho fatto teatro, ho fatto cinema, ho fatto tv e che c'altro? Amo lo yoga, amo ballare e cantare e beh, amo